Ciao ragazzi, allora oggi bella giornata, sono andato a fare una bella gara, gara difficile, mi sono piastato bene, quindi siamo nettamente soddisfatti, ma siamo qui per parlare di calcio femminile, come promesso ecco il video veloce di Roma-Juve, Juve-Roma, serie A femminile con la Juve che vince 1-0, con la rete di Bonansea a 65esimo che consente alla Juve di tenere il più 4 sul Milan e il momentaneo più 6 sulla Viola, anche se ricordiamo che la Fiorentina è potenzialmente a meno 3 in virtù del recupero che dovrà giocare col Bari, però oggi era importante vincere e con la Roma non è facile perché la Roma ha un fattore che sembra sempre sotto traccia ma in realtà è importantissimo, il Milan ha Pipitone che è un portiere, scusate la Roma ha Pipitone che è un portiere eccezionale, veramente incredibile, fa delle parate strepitose, oggi è stata ancora mostre, poi la becchia in giornata magari storta e i guagli li fai anche con abbastanza facilità, ma quando Pipitone la trovi in una giornata del genere è difficilissimo trovarla via della rete, io mi ricordo l'anno scorso contro la Res Roma all'Unicusano Stadium e alla fine c'è stato solo un colpo di testa di Isaac Sen, è riuscito a portare avanti la Juve perché se no era una partita difficile anche quella e oggi in casa la Juve ha faticato, ma faticato soprattutto per meriti del portiere della Roma che ha fatto delle parate strepitose alla fine la Juve credo che abbia meritato la vittoria e abbia perso 3 punti importanti in scena. Ora ovviamente non bisogna fermarsi perché sabato prossimo ci sarà da giocare a Caravaggio perché giocheranno a Caravaggio contro il Mozzanica e devo essere sincero credo che quella è una partita abbastanza tosta visto che l'Atalanta-Mozzanica all'andata ci ha bloccato a V9 0-0. Chiedo qua il video anche perché non ho molto da dire perché la partita l'ho vista a pezzetti visto comunque che avevo questo impegno sportivo e quindi insomma chiudo qua il video con la Juventus che batte 1 a 0 la Roma con gol di Bonassea e a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!